Eccoci qua alla stessa edizione di Inside the Thunder con Mario Profighting Zanotti, coordinatore della Profighting. Allora Mario, parlaci della costellazione degli eventi futuri Profighting. Beh, costellazione è un bel termine, direi che mi piace. Abbiamo, insomma, sembrerebbe che siamo a fine stagione perché ormai siamo a maggio inoltrato, ma abbiamo ancora tantissimi eventi. La prossima settimana abbiamo il knockout action a Rimini, il galà di Biglio Dori con titolo europeo professionisti con Francesco Palermo. La stessa sera, anzi scusate, il giorno dopo a Taranto abbiamo un grosso galà fatto da Dino Turco, promoter della Puglia, dove anche lì saranno delle selezioni Super Combat. La settimana dopo avremo un galà a Bologna direttantistico. La settimana dopo, e questo è importantissimo, la fiera del Welles che è un po' il nostro fiore all'occhietto, faremo i tornei, i bad boys, i bad girls, che sono quelli che, diciamo, il nostro, il campionato italiano Profighting, chiamiamolo così. Quindi, insomma, c'è ancora tanto, poi, se vogliamo, non da tralasciare, ci sono gli eventi all'estero, come comunque siamo chiamati oggi. Ok, allora ti auguriamo delle grandi aspettative per il futuro e per gli eventi prossimi.